Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon Dio. Come che non si può sdecidi di essi contengs e non si può sdecidi di innamorarsi? Anche gli inglesi dicono che per di innamorarsi dicono che con l'è un amore e nessuno si decide di con l'è. Ha succeduto, che robisci? Ha succeduto. E vengono in besoli e sono una grazia di Dio. E quanto si è corrispondosto all'amore, in che volte veramente cambia la vita, in che volte si sente l'importanza, in che volte si sente che si è stato giù fra i miei e i due, proprio te no, e in che volte si arriva a buttare via la facciata, a fidarsi di quell'altro, a mettersi le mani di quell'altro come da quel giugno che si buttava in un par daù e che l'altro arriva di chiaparti a svol. Ha succeduto la stessa roba che aveva fede, ma bisogna disarmarsi di fronte di lui, per mettersi le mani di Dio. E ha succeduto, quando si ha il bene, il mio regno, quando si sente si voluto bene. Tanto è vero che chi che non arriva a innamorarsi perché non è buono di disarmarsi, ha le difficili che aveva anche fede. Buona giornata e buona vita. Grazie.